A distanza di due anni torniamo alla villa dinamica del quartiere San Paolo che è il più popoloso di Vasto. Patrizia De Rosa che insieme ad altri cittadini aveva condotto una battaglia per eliminare uno stagno maleodorante che in effetti è stato eliminato, però mi diceva la sporcizia c'è ancora ed è tanta. C'è la sporcizia di tutti i giorni, io voglio dire al sindaco Francesco Menna che alcuni, gli ho mandato anche delle foto, fargli vedere che ci sono dei ragazzi che escono dalle scuole che vengono qui e lasciano questa sporcizia che adesso vedrai. Entrano con le moto, i cani che fanno le loro scremenze dove capitano, non lo raccoglie nessuno, io mi sono stufata. Allora se il comune non ha intenzione di tenere pulita la villetta, la tolga e ci faccia una pista per eventi per i ragazzi. Un qualcosa di diverso dove i ragazzi possono fare qualcosa per cui credere, perché questo non è un quartiere malfamato come tutti dicono la zona della 167. No, questo è un quartiere dove c'è gente che rispetta, specialmente l'ambiente. Qui non si può più, d'estate qui non ci si può venire, ci sono i bambini che giocano. Ecco, da quanto tempo non viene pulito? Perché sembra ci siano comunque dei volontari che periodicamente vengono a tagliare l'erba. Qui ogni tanto vengono, vengono la cooperativa Matrix, non dico di no, però se tu vedi come stai vedendo non è che viene pulita, cioè l'erba che cresce, vedi la villetta qui non c'è stata mai fatta la manutenzione che si deve fare. Allora, se non sono capaci di mantenere pulita un'area verde dove c'è stato anche il monumento, cioè una targa di Borsellino e Falcone, dei grandi giudici, io voglio assolutamente che il sindaco, l'amministrazione comunale che venga qui e faccia qualcosa, come ha promesso. Quindi lei come residente, interpretando anche il pensiero di altri residenti della zona, chiede o una manutenzione costante oppure eliminare addirittura l'area verde e farci una piazza. Sì, una piazza dove ci si potrebbe fare dei concerti, una piazza per degli eventi, qualsiasi cosa. Oppure se no il sindaco si mette l'anima in pace che questa deve venire ricintata con le telecamere, perché non se ne può più, ma non è solo di giorno, anche di notte. Cioè qui la notte non puoi camminare, la sera, l'inverno, alle 6, 5 e mezza, 6, uno vuole passare, non puoi passare, perché è il buio totale. Con tutta sta gente che va in giro adesso, non si può. Allora, devono tutelarci, questa villetta deve essere tutelata. Grazie.